Si sfoglia la margherita in Casavellino per la panchina, Gautano Terri resta il primo nome in cima ai desideri di Salvatore Di Somma, un tecnico vincente che ha brindato in campagna già con Nocerino e Benevento nel recente passato, ma l'allenatore continua a tentennare e quanto pare il tecnico in questa stagione al Catanzaro starebbe vagliando anche il Trapani. Con lui restano sul taccuino del DS anche i nomi di Piero Braia, ex Cosenza e Massimo Rastelli che è in Sardegna in vacanza, senza dimenticare Stefano Colantuono, ex difensore bianco-verde, con un passato ad Atalanta e Bari. Numerose panchini in AMB per lui, ma che per accettare Avellino vorrebbe un progetto importante sin da subito. Nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Giorgio Roselli, tecnico ex Cremonese, Cosenza e San Benedettese che proprio in mattinata ha avuto un contatto. Restano sul taccuino anche i giovani Fabio Pecchia, Emiliano Biggica, Antonio Calabro e Antonino Asta. Sono giorni cruciali per la panchina bianco-verde. Vedremo chi raccoglierà l'eredità di Azionino Capuano.